Sto cominciando a pensare che Sweetie Todd Sa che cos'è una telecamera Ogni volta che lo riprendo con il telefonino Comincia a fare le cose più assurde Si arrotola tutto Si mette tutto a fare scene strane Sempre E' allucinante Correggerlo Altrimenti avrebbe attaccato Avrebbe usato la sua aggressività Io lo